Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Grande notizia per gli appassionati di Forum. Il nuovo giudice è un noto avvocato dei VIP. Dopo cinque anni di tentativi, Barbara Palombelli è riuscita a convincere Anna Maria Bernardini De Pace ad accettare il ruolo. Considerata una delle massime esperte di diritto di famiglia e della persona, Anna Maria Bernardini De Pace è anche un volto televisivo noto per le sue apparizioni in programmi che trattano di divorzi VIP e argomenti simili. A partire dalla prossima stagione televisiva, sarà il nuovo giudice di Forum, accettando finalmente l'invito della conduttrice Barbara Palombelli dopo anni di richieste. In un'intervista al settimanale DPTV, Anna Maria Bernardini De Pace ha dichiarato di aver accettato l'incarico per rendere il linguaggio giuridico più comprensibile al grande pubblico, nonostante inizialmente avesse rifiutato per mancanza di tempo. È importante sottolineare che l'avvocatessa e la Palombelli sono amiche da lungo tempo, il che potrebbe rendere ancora più interessante il loro debutto insieme. Tra i numerosi casi di divorzi VIP seguiti da Anna Maria Bernardini De Pace spiccano quelli di Eros Ramazzotti e Michele Unziker e Albano Carrisi e Romina Power. Va ricordato che, in quanto madre di Chiara Giordano, è stata suocera di Raul Bova dal 2000 al 2013. L'arrivo di Anna Maria Bernardini De Pace come giudice su Forum promette di portare una ventata di freschezza e competenza al programma, con la sua vasta esperienza nel campo del diritto di famiglia e la sua capacità di comunicare in modo chiaro e accessibile.